E' da tempo, ormai da una decina d'anni, che Pirelli ha deciso di riunire sotto un'unica responsabilità in un altro dipartimento, la gestione della sostenibilità e la gestione del modello di enterprise management di gruppo. Questo perché riteniamo che attraverso l'attenzione alle tematiche sostenibili e ad un modello proattivo di gestione dei rischi si possa assicurare un valore, il valore del gruppo, che dura nel tempo. La componente environmental, social e governance è la componente che costituisce la sfida rispetto a cui un'azienda come la nostra si deve attrezzare, cercando di intercettare il più possibile gli impatti ambientali, sociali e di governance, il nostro modello di gestione e a valersi di un modello strutturato di gestione del rischio che identifica per ogni tipo di rischio la probabilità di accadimento, il possibile impatto sia sugli elementi intangibili ma anche sugli elementi economici. E' lo strumento per noi più efficace per identificare i programmi di mitigazione, i programmi di recovery plan e quindi cercare di preservare il valore del brand, il valore economico e il valore degli asset strategici del gruppo.